È deceduta la 72enne, arrivata ieri in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia. Vittime insieme ad altri due feriti, ora ricoverati all'Umberto I di Enna. Salgono così a due le persone morte per l'incidente che si è verificato ieri, dopo le 16 sulla strada statale 626 in zona Capodarso, a morire anche il conducente del mezzo articolato, che dopo l'impatto con le due auto è precipitato giù dal viadotto. Immediati soccorsi sul luogo, intervenuti sul posto anche il personale Anas, che ha provveduto a ripristinare la circolazione.